Vi ricordate il video in cui ho detto Perciò vestigiamo Posso portarmi anche Leon al 10 Perciò I miei leggendari al 10 Il prossimo brawler che migliorerò al 9 Però dovrò fare 8 e 9 Sarà Tara Molto bella Beh ho cambiato idea Perché il brawler che miglioreremo oggi Sarà Leon a livello 9 Però dovremmo fare 8 e 9 Ho le monete necessarie Rimarrò con circa 13 monete Allora prima di migliorarlo Lo troviamo per vedere il suo danno Poi andremo a vedere il danno di livello 8 Poi subito livello 9 E lui farà il devasto ragazzi Innanzitutto Quanto fa? 1712 Bene 8 Mamma mia ragazzi Proviamo 1712 Adesso andiamo qua Aiudiamo 1624 Ma benissimo ragazzi E adesso il livello 9 Il livello che tutti aspettavamo da un sacco 3 3 2 1 Ragazzi Ho i miei leggendari Praticamente Ho Corvo Livello 10 Ora Trovo la stellaria di Leon Da un'ora di leggendari maxati Mamma mia ragazzi Mamma mia Ah dobbiamo provare leon livello 9 Quanto danno fa? Da 1600 qualcosa che non mi ricordo Andiamo a vedere Andiamo a vedere 1536 Ma ragazzi Praticamente circa 200 danno e qualcosa in più ha fatto rispetto al livello 7 Ma che fregata Ma che fregata Aspetta ma io voglio vedere se vedono i brawler livello Ok tutti questi Mi sono fatto una bella fila Comunque ragazzi posso migliorare tutti a 9 Guardate il mio negozio Ottenuto Ragazzi Due punti per gelindo Mi mancano Non ho le monete però No Per carità Rado per giusto Cioè Devo soltanto farmi due punti per gelindo Ho maxato tutti ragazzi Se io mi comparsi questo corso di 36 monete Mi ridarà le monete indietro Perché ho perso la cassa Ragazzi guardate qua che fregatura che mi ha fatta la supercell Mi dice Brawler epico casuale Casuale Non inventiamoci troppo Visto che mi manca soltanto Iris ragazzi Aspettate Ecco così Ehm E c'ho Oh mio dio Casuale Proprio chissà che troverò Ma io non spendo 170 gemme per un brawler epico Io spenderò le 169 gemme per il brawler Il pass E la supercell può anche darmi tutti i buoni epici Casuali nel negozio Ma io non lo scioperò mai Scioperò il pass Ok supercell Perché c'è inutile che mi dici qualcosa Anche se voi non ci trate niente Andiamo subito Un amichevole per provarlo Qualche cos'ho Che è Vabbè Togliamo Rifiutiamo E andiamo subito In partita C'è capitato un corvo Ora siamo il trio leggendario Ma oggi è un giorno fortunato Perché forse oggi Iscirà l'aggiornamento Oggi L'è a livello 9 Ma GG Proff Ho i gazz Ma Ho visto qualcuno A suo beat Colto pure Che si unisce Prendo sto chest Aspetto che rinasce Corvo No mio Ok Quindi per il rap Conto finale Non vinceremo mai O forse si Aspetta un attimo Ci provo Vinta Perché io non pensavo Che Peggy I compagni Ero morto Perciò GG Ragazzi Spero che questo video Vi sia piaciuto Se vi è piaciuto Like Iscrizione Grazie per i 107 iscritti Al prossimo video ragazzi Il prossimo video Credo che sarà Che shopperemo Il Brawl Pass Perciò Restate aggiornati Nel mio canale Ciao